Chi di rigore ferisce, di rigore perisce. Dopo il caso Arsenal-Milan, stavolta la VAR che decide l'amichevole Inghilterra-Italia, finisce 1-1 con un rigore d'insigne nel finale. Infuriati gli inglesi in vantaggio con Vardy per la decisione dell'arbitro tedesco Aitekin. Buona la prova degli azzurri, il CT di viaggio può essere soddisfatto e fiducioso e aspettare il suo futuro. Io non so se ci rivedremo questi ragazzi, ma comunque sarà un federazione, non sarà un federazione, ma loro sono l'Italia, questo è il gruppo. Mancano 7-8 giocatori, 3 infortunati e qualcuno può rientrare. E loro devono capire quello che rappresentano. Io questo discorso che sto facendo a voi l'ho fatto a loro. Ci sarò io? Vedremo, ma non è un problema. Goleada tennistica della Spagna, 6-1 sull'Argentina. A Madrid tripletta di Isco, ma nell'Albi Celeste assente messi erano in campo diversi rincalzi. Rimane la pesante batosta. Piccola rivincita del Brasile sulla Germania dopo il famoso 7-1 del 2014. Stavolta a Berlino vince la Sele Sao con un gol di Gabriel Jesus. Nelle altre partite amichievoli la Francia si riprende dalla sconfitta con la Colombia e vince in Russia. 6-0 della Svizzera con Panama, vittoria anche per Grecia e Scozia. Grazie.